Grande partecipazione di artisti provenienti da tutta la provincia di Berletta Andiatrani per la serata conclusiva del Music and Talent, presente all'evento il sindaco di Andrea Nicola Giorgino. L'evento svuottosi nella serata del 15 novembre dalle ore 19.30 al Palasport di Andrea ha visto la partecipazione di ben 18 aspiranti cantanti provenienti da varie città pugliesi, i quali a fine serata sono stati giudicati da una giuria di esperti. Ospiti della serata isossia di Checco Zalone e Renato Zero. A presentare sono stati Adriano Tritta e Simona Lamura. Grande soddisfazione per Alessandra Carbone e Vito De Francesco, gli organizzatori dell'evento. Alla fine è stato il minervinese Nicolò Balducci ad aggiudicarsi il primo posto. Al secondo posto è andato a Francesco Pasquale, il terzo invece a Sante Strippoli. Francesco Pasquale si è giudicato anche il premio Presenza Scenica, mentre il finalista minervinese si è giudicato il premio Frates Critica.